Nome Matteo Aldo Età 18 18 Soprannome Il PUM mi è stato dato da piccolo in allenamento da un mio compagno Aldù Ruolo Centrocampista, mediano Centrocampista e difensore Da quanti anni giochi nello Spezia? 8 8 Gol salvato o gol fatto? Gol salvato Gol salvato Gol o assist? Assist Gol Il ricordo più bello che hai da quando vesti questa maglia? Il mio primo gol che ho fatto qua Spezia Ascoli 4 a 3 Tripletta di San Sui Il tuo punto di forza in campo e la tua debolezza o l'aspetto sul quale vuoi migliorare? La mia forza è la tecnica e l'aspetto su cui vuole migliorare è il fisico Il mio pregio è la tranquillità in campo e la seconda mira invece è la lucidità scelta Piatto preferito? Una lasagna Uguale Velocità dribbling o forza fisica? Di quale qualità non faresti mai a meno? Forza fisica Forza fisica Hai un rito pre-gara? No Bacio un camito trattato alla mia fianzata La canzone che ascolti sempre prima di scendere in campo? Non ascolto canzoni prima da partire Vertigi di Tedua Lo stadio dei tuoi sogni? San Siro Bernabéu Descrivi mister vecchio con una parola Unico Tignoso Quanto conta per voi spezzini indossare questa maglia? Molto bello soprattutto perché è la città in cui sono nato Tantissimo sarebbe un sogno Supereroe preferito? Spider-Man Superman Quale qualità ruberesti al tuo compagno a fianco? La difesa Intelligenza in campo, posizione Il momento più bello che avete vissuto finora in campionato? La prima vittoria di quest'anno Prima vittoria contro il Bari Un suo pregio e un suo difetto? È un leader e a volte forse è troppo forte Intelligente e timido Che cosa vi chiede in particolare Mr. Vecchio prima di ogni partita? Di fare quello che sappiamo Di metterci sempre il cuore Chi si veste meglio dei due? Io Io Qual è il giocatore secondo voi italiano più forte del momento? Chiesa Nicolò Barella Qual è il giocatore invece più forte in generale? Bellinger Attualmente è Bellinger Da 1 a 10 mi dovete rispondere con un numero Quanto sei forte di testa? Sei Sette Bravo a concludere in porta? Cinque Otto Bravo a dribblare? Sette Sei Bravo a marcare? Sette Otto Ambizioso? Otto Nove Competitivo? Nove Dieci Secondo voi è maggiore la gioia in una vittoria o la delusione in una sconfitta? La delusione di una sconfitta Delusione di una sconfitta Il tuo passatempo preferito? Ascoltare musica Giocare a freccette Frase dell'inno dello spezia calcio che più preferisci? Questa spezia che ne dici? Non siete soli Se fossi un animale, quale saresti? Leone Cana Che cosa chiederai a Babbo Natale per quest'anno? Di arrivare il più possibile in alto in classica Arrivare nel playoff Il sogno nel cassetto? Diventare un calciatore Diventare un calciatore e poter segnare sotto la corpo ferrovia Il sogno nel pagina